Finalmente, dopo tante indiscrezioni, i Redmi Note 9 Pro e i Redmi Note 9 Pro Max, che è un scioglilingua, sono ufficiali. Nel video di oggi andiamo a vedere quali sono tutte le specifiche tecniche di questi due dispositivi, andiamo a vedere soprattutto quali sono le differenze e quale scegliere tra i due, e parleremo anche del perché non è stato presentato il Redmi Note 9 standard, normale. Quindi, facciamo partire la sigla. Redmi Note 9 Pro Max è il primo dispositivo dell'azienda cinese ad avere questo appellativo Max nel nome, ma cosa cambia rispetto a quello standard, che poi sarebbe il Pro? Effettivamente, dal punto di vista del design non cambia nulla, perché rispetto alla generazione precedente, in cui avevamo una differenza tra il Redmi Note 8 normale e il Redmi Note 8 Pro, questa volta i due sono totalmente identici, e sono totalmente identici anche nelle dimensioni, quindi effettivamente questo Max non va poi ad indicare che il dispositivo sia effettivamente più grande, tant'è che entrambi hanno anche un display LCD da 6.67 pollici, con risoluzione Full HD+, e rapporto in 29, e sia lo schermo che il corpo dei dispositivi sono protetti da un vetro Corning Gorilla Glass 5. Senza dimenticare che abbiamo la fotocamera per i selfie proprio all'interno del display, in un piccolo foro centrale. Continuando a parlare del design, invece, possiamo notare che entrambi hanno una quadcamera posteriore, simile a quello che è il trend attuale, e la cosa molto importante è che fortunatamente la serie Redmi continua a mantenere l'ingresso mini jack da 3.5 mm e soprattutto il sensore infrarossi, che io trovo estremamente comodo. Per quanto riguarda le colorazioni, il Redmi non ha fatto una vera e propria distinzione. Passando all'hardware però, qui cominciamo a vedere le prime differenze tra i due. Non tanto nel processore, perché a differenza della scorsa serie in cui il top aveva un Mediatek e quello inferiore aveva un Qualcomm, questa volta hanno unificato il chipset. Infatti a bordo di entrambi abbiamo un Qualcomm Snapdragon 720G. Quello che cambia però sono i tagli di memoria, perché il Pro normale viene venduto con tagli da 4.64 e 6.28, mentre il Pro Max con tagli da 6.64, 6.28 e 8.28. Ovviamente la RAM è LPDDR4X, mentre la memoria interna è UFS 2.1, e abbiamo anche la possibilità di espandere la memoria attraverso una microSD, e abbiamo lo slot che può contenere anche due sim oltre l'espansione di memoria. E so che vi starete chiedendo, ma quindi se hanno le stesse dimensioni, hanno anche la stessa batteria? Ebbene la risposta è sì, infatti entrambi hanno una batteria da 5.020 mAh, però mentre il Pro ha una ricarica rapida massima a 18W, il Pro Max ne ha una massima a 33W. Ma quindi vi starete chiedendo, ma allora quali sono queste differenze tra questi due? Allora, l'unica e vera differenza sostanziale sta nella fotocamera. Infatti, partendo dal Note 9 Pro, abbiamo una quadcamera formata da sensori da 48 più 8 più 5 più 2 megapixel. Il sensore primario sfrutta la tecnica di pixel binning, offrendo foto da 1,6 micrometri. Gli altri sensori invece sono un grande angolare da 119 gradi, un macro che scatta fino a 2 cm di distanza, ed uno dedicato all'acquisizione della profondità. Nel Note 9 Pro Max invece la quadcamera passa a 64 più 8 più 5 più 2 megapixel, e tutti i sensori sono gli stessi, fatta eccezione per il primario, che ha una capacità anch'esso di pixel binning a 1,6 micrometri. Anche la selfie camera non è la stessa, perché il Pro tradizionale ha una fotocamera frontale da 16 megapixel, mentre il Pro Max ha una fotocamera frontale da 32 megapixel. Per quest'ultimo c'è anche la feature Super Pixel, che agisce alla stessa maniera del pixel binning, un Andy Pixel e potendo acquisire così più luce. Alla luce di tutto ciò potrete dunque capire che le differenze tra i due non sono poi così sostanziali, nonostante ciò mi verrebbe da dire che sulla base della scheda tecnica il Pro Max sia migliore. Effettivamente non sappiamo se questa fotocamera da 64 megapixel, unita a quella frontale, diano dei risultati tanto migliori da poter fare questo upgrade, e ovviamente dovremo provarli per capire quale converrà. Nonostante ciò le differenze di prezzo non sono poi così sostanziali. E allora, visto che abbiamo parlato di prezzi, vi dico anche quali sono stati i prezzi di lancio sul mercato indiano, effettuerò un cambio valuta, quindi non sono rappresentativi del mercato italiano o europeo, ma ci fanno un po' capire in che direzione stiamo andando. Allora, mi faccio aiutare dallo smartphone. Per quanto riguarda il Note 9 Pro, da 4,64, al cambio sono circa 155 euro, mentre il 628 circa 191 euro. Passando al Note 9 Pro Max, la variante da 6,64 è disponibile a circa 179 euro, la 628 circa 220 euro, mentre la 828 circa 226 euro. Insomma, come avrete capito, le differenze di prezzo non sono poi così sostanziali. Non vediamo l'ora di vedere l'annuncio ufficiale anche per il mercato italiano, così da capire, più o meno, quale sarà il picco massimo a cui si spingeranno. Comunque, vi avevo anche introdotto il Redmi Note 9 tradizionale, ma che fine ha fatto? Perché non è stato lanciato? Nei giorni scorsi si è parlato tantissimo di questo modello, perché sarebbe stato il primo smartphone a possedere un Mediatek Helio P75, e quindi avremmo rivisto un po' quelle differenze tra Qualcomm e Mediatek che abbiamo visto anche nella variante precedente. Questo modello era spuntato su Geekbench con il nome di Xiaomi Merlin, ovviamente un nome in codice, ma vista la presentazione odierna, senza questa variante, possiamo dire che effettivamente forse non era prevista. Non sappiamo se arriverà successivamente o se sia un modello non della linea Note. Infatti, possiamo ipotizzare che potrebbe essere anche, semplicemente, lo Xiaomi Redmi 9, sul quale poi è più prevedibile che ci sia una variante Mediatek. Comunque, per quanto riguarda questo aspetto, non abbiamo ancora conferme ufficiali, ma ve li daremo sicuramente nelle settimane o nei giorni successivi. Comunque, giovanotti, per questo video era veramente tutto. Io vi invito a lasciare un bel like, qualora questi smartphone vi siano piaciuti, mi raccomando, fatemi sapere qui sotto in descrizione cosa ne pensate, se eventualmente foste interessati all'acquisto di dispositivi una volta arrivati in Europa. Personalmente li trovo intriganti e non vedo l'ora di provarli per portarvi una prova concreta sul canale. Comunque ragazzuoli, per questo video è veramente tutto. Un saluto a tutti da Leonardo per GizChina.it Non so lo so, Grazie a tutti.